Ciao ragazzi e ragazzi, volevo condividere con voi il mio nuovo acquisto, ossia mi sto riferendo alla paletta di Bella Oggi, Sunrise Stories. L'ho acquistata nella colorazione Nude Glam, perché c'è anche l'altra versione, dai toni molto più accesi, molto più forti, però a me ha colpito particolarmente questa, prossimamente io vi farò un tutorial, quindi la trovate sul sito di Bella Oggi oppure direttamente al Tigotà, ad un costo di 12,90€. Io adesso ve la svuoccio e vi mostro le colorazioni, vedete? Allora inizio di qua, spolvera un pochino, però è scrivente. Questo è uno shimmer, vedete? Luminoso, questi invece sono i matt, quindi sono tre shimmer e invece gli altri sono matt. Adesso vi svuoccio questa, colorazione, vedete? Sono molto molto delicati, molto belli. Questo è proprio color pescato, vedete? Ultimo, questo maroncino caldo, molto caldo direi, vedete? Sono molto molto belli, vedete? Sono tre shimmer e il resto sono matt. Io prossimamente, come ho detto prima, vi farò un tutorial. Spero il mio acquisto vi sia piaciuto, vi mando un bacio e ci vediamo al mio prossimo video. Ciao!